Cari amici di Newsbiella, è davvero con tanta gioia che mi rivolgo a voi in occasione delle festività del Santo Natale. In questo tempo di Natale sono tante le notizie che ci raggiungono e sono notizie che ci riportano situazioni anche drammatiche, di fatti di cronache, conflitti, guerre in Palestina, in Ucraina, situazioni di disagio, situazioni di povertà. La domanda allora che ci facciamo è per poterci scambiare gli auguri di Natale e che siano auguri autentici e quale significato dare anche quest'anno al grande evento del Natale. Vi rispose San Francesco di Assisi otto secoli fa quando volle rappresentare il presepe a Greccio. Egli volle vedere con gli occhi della carne la nascita di quel bambino per poterla poi celebrare nella messa. Sono passati tanti secoli, è nata la tradizione dei presepi e posso dire anch'io, nel mio piccolo, di aver potuto celebrare in questi giorni, di prepararmi a celebrare anche nei prossimi giorni, le festività natalizi, in tanti piccoli presepi. Perché là dove c'è l'umanità, dove c'è la semplicità, dove c'è dei cuori che si vogliono bene, ecco quello è il luogo dove il Signore vuole nascere ed Egli viene nel nostro cuore, viene nella nostra vita perché vuole trasformare la nostra vita e strapparci dalle tenebre, da questa nostra umanità decaduta a un'umanità nuova, a un'umanità secondo il cuore di Dio. Vi faccio gli auguri più sinceri di un buon Natale perché è per tutti, è sia un Natale di speranza, un Natale vero, un Natale autentico, un Natale profondo, dove il significato lo mettiamo veramente noi con la nostra vita, insieme alle persone che abbiamo vicino. auguri di pace, auguri di buon anno, auguri di un buon Natale con tutto il cuore.